Guardi, nei giorni scorsi ne abbiamo già discusso molto di questo con dichiarazioni e posizioni nette e chiare. Nei prossimi giorni mi riserverò insieme a tanti colleghi e amici che condividono questo impegno di individuare una proposta che possa segnare due aspetti molto chiari. Un modello organizzativo adeguato e da una parte e dall'altra una chiara proposta politica e programmatica alternativa a questo governo, alternativa alla sinistra.